Buongiorno, oggi vi parlo di una new entry in Proser Perreda, è il letto Icon di Fluo, arrivato ieri, è il letto matrimoniale con base a doghe regolabili. Questo è un esempio di doghe regolabili, non è il letto Icon perché questo è un letto contenitore, il letto Icon invece è un letto aereo, quindi alzato da terra. Questo è solo un esempio, la stessa base di doghe è sul letto Icon, quindi la base a doghe regolabili si presenta così, si può personalizzare da un lato sia dall'altro, così che se le due persone vogliono avere una resistenza diversa, si può. Le doghe regolabili hanno questa particolarità di avere una doppia doga nella zona del busto, con questi cursori che si possono allargare o stringere per personalizzare appunto la morbidezza delle doghe. Ritornando sul nostro letto Icon, la testata è imbottita e ha una cucitura centrale che dà un tocco di eleganza al letto. Anche la base è imbottita, tutta la base, e crea un contrasto con i suoi piedini, che sono in metallo nickel nero lucido. Può essere rivestito in tessuto, in pelle o in ecopelle. In questo caso è rivestito in tessuto Alexander, che fa parte della nuova collezione 2021 di Flu. E anche il copri piumino che ha su, fa parte della nuova collezione, si chiama Victoria, e ha questa elegante fantasia. Bellissimo! Ecco qui quindi il nuovo letto Icon, con il nuovo rivestimento, nuovi copri piumino. Detto questo, io vi invito volentieri a venirlo a vedere nel nostro showroom, oppure a contattarci per ulteriori informazioni, oppure anche per un preventivo. Grazie a tutti!